Allora, a questo punto siamo pronti, se avete compreso l'applicazione dell'equazione del bilancio alla massa, siamo pronti per mettere dentro una grandezza un po' più complessa come l'energia. Allora, l'energia è una grandezza fondamentale per la fisica tecnica. Ovviamente voi avete già incontrato il concetto di energia, da pulizzo a meccanico, avete visto l'energia cinetica, l'energia potenziale, quindi avete già visto alcune forme di energia. Quindi per energia, perché la grandezza che avete incontrato è una grandezza conservativa, ma questo lo ribadiamo già ancora nel corso di fisica tecnica perché diciamo vale il primo principio della termodinamica per un sistema chiuso, sistema semplice, sistema aperto, sistema semplice, che ci dice che la grandezza di energia è una grandezza conservativa, cioè per un sistema isolato non può cambiare. Quindi noi postuliamo che in termodinamica questa energia in un sistema isolato non può assolutamente cambiare, cioè il delta del sistema isolato è nullo. Ovviamente posso avere delle ripartizioni diverse tra in un sistema composto isolato, se questo sistema è isolato io posso avere, se anche l'energia di tutto il sistema non cambia, posso avere che una certa quanta energia vada a finire da una parte all'altra, cioè posso avere una ridistribuzione, ovviamente rimossi dei vincoli interni nel mio sistema. Quindi il primo, diciamo, noi postuliamo che delta E, diciamo, nel sistema isolato sia praticamente nulla. Il primo principio invece per i sistemi chiusi lo scriviamo in modo un po' più articolato, ma prima di passare al primo principio vorrei con voi fare un attimo un escursus di quello che è il concetto di energia che voi già avete. Normalmente voi avete considerato diverse forme di energia e quindi all'interno di questo simbolo voi normalmente riconoscete che cosa sicuramente è l'energia cinetica. Che cosa è l'energia cinetica di un corpo? Quindi come la potete calcolare? un mezzo Mb al quadrato. L'energia potenziale? Anche questa la sapete valutare in un campo gravitazionale, per esempio, quant'è l'energia potenziale? Mg per H delta Z, diciamo, ovviamente se avete un riferimento, diciamo, a cui fate il riferimento. A cui, diciamo, normalmente fate più ancora, per esempio, l'energia chimica e nucleare, no? Anche questa probabilmente l'energia chimica anche la avete valutata. O ancora l'energia interna del nostro sistema che ancora invece non sappiamo la U, di cui abbiamo parlato in termini di Stati e su cui ovviamente dovremmo fare ancora qualche ulteriore chiarimento. Dal punto di vista, diciamo, microscopico, questa energia non è nient'altro che l'energia che posseggono le molecole, quindi che posseggono, diciamo, le molecole che sono, diciamo, all'interno del vostro sistema di controllo e che possono avere, dal punto di vista microscopico, abbiamo visto diverse velocità, ma poi dovrebbe essere collegata anche all'energia oltre che traslazionale e rotazionale, cioè potrebbero avvitarsi su di loro queste, diciamo, queste molecole. Cioè se c'è una molecola che è fatta, praticamente, in via atomica, è fatta così, è chiaro che questa energia dell'atrice microscopico mi può derivare sia al fatto che questo dipolo si muova, quindi trasli, ma anche che ruoti intorno a se stessa piuttosto, ovviamente, che rispetto, diciamo, alla direzione mortoconale, all'asse della, diciamo, della molecola stessa. Quindi questa energia, diciamo, che voi avete già iniziato a vedere nell'interno degli stati, deriva sia da un'energia che voi potete misurare in qualche modo, in modo macroscopico, attraverso la temperatura del sistema, perché, diciamo, nei gas abbiamo visto che questa energia cinetica la posso, diciamo, tranquillamente, diciamo, la variazione di questa energia cinetica la posso associare alla variazione di temperatura attraverso il calore specifico, giusto? Attenzione, perché nei liquidi non c'è più un movimento delle molecole uno rispetto all'altro, ma questa energia diventa una vibrazione dei singoli atomi all'interno del recidio di reticolo cristallino, quindi questa energia interna è rappresentata da quanto le molecole, ovviamente, si muovono all'interno rispetto alla loro posizione, quindi nel reticolo cristallino di cui, diciamo, che stiamo questa sera. E non solo questo, abbiamo visto anche un'altra cosa, dal punto di vista microscopico, quale? Abbiamo visto che a volte ci sono delle variazioni di energia senza variazioni di temperatura. Quando? Nei passaggi di fase. Cioè questa energia interna, oltre a poter essere, diciamo, energia sensibile, potrebbe anche essere associata a una variazione, a un passaggio, diciamo, di fase, che consiste nella rottura di legami intermolecolari, per cui quando il liquido evapora, evidentemente ogni molecola è libera di muoversi rispetto all'altra molecola d'acqua, quindi rompete questi legami, o da solido al liquido, o da solido ai riforme, o da solido o da liquido ai riforme, c'è una, diciamo, differenza in questi legami, diciamo, tra molecole e molecole. Questa energia, che dovete dare, sta proprio dentro, quindi al punto di vista microscopico, penso che vi sia chiaro adesso, quindi, da un lato l'energia la lasciamo sensibile, dall'altro l'abbiamo chiamato calore latente, cioè energia latente, che ovviamente viene, in qualche modo, assorbito, acceduto, e fuori funzione, ovviamente, se sto passando da liquido a riflocio, ma da riforme a riforma, cioè se il passaggio di fase avviene in un verso o nell'altro verso. Ora, questa, diciamo, ovviamente, quello che a noi interesserà non è tanto in generale quantificare l'energia, ma quantificare le variazioni di energia, e molto spesso, poiché, l'energia cinetica, potenziale, chimica, eccetera, sono nulla le variazioni, la mia variazione sono costanti le con C, se è costante le con P, se è costante l'energia, diciamo, chimica e nucleare, evidentemente, che cosa posso fare? Ah, però, che delta E sarà uguale a delta U, chiaro? Quindi, nel caso in cui sono costanti queste, diciamo, quantità, ovviamente, la variazione di delta E coincide con la variazione di delta U. Quindi, in un sistema isolato che sta fermo nello spazio, che non ha reazioni nucleari, che, diciamo, ovviamente non ha variazioni di quota, e l'unica variazione, diciamo, di energia che posso andare a considerare sarà delta U. E quindi delta U, in questo caso, sarà uguale a zero se il mio sistema è isolato. Quindi posso riscrivere questa relazione, nel caso in cui non ho variazioni di energia cinetica, potenziale o altra forma di energia, con delta U, nel sistema isolato, uguale a zero. Ricordiamoci ancora un'altra cosa che abbiamo detto. Ricordiamoci che l'energia gode, è una credenza estensiva, quindi gode della proprietà additiva. Quindi io posso ricavare delta U a a partire dei delta U dei singoli componenti, quindi poiché U è uguale a U con A, più con B, più con C e così via. Quindi tanti sottosistemi A, B, C e così via. Ovviamente, se questo è uguale a delta U è uguale a delta U con A, più delta B, più delta C, delta U grande, sarà cosa che cosa sarà uguale? Sarà la differenza con A, più la differenza di U con B, più la differenza di U con C. Ovviamente per l'additività della grandezza, cioè poiché è la grandezza estensiva, ogni grandezza estensiva, ogni grandezza estensiva, va alla proprietà additiva. E quindi questo lo potrò stessi scrivere. Quindi è evidente, facciamo un caso molto semplice di un sistema isolato, c'ho due sistemi, due sottosistemi soltanto, A e B. Quindi questo è un sistema isolato, questo è A e questo è B, questo si riscrive in questo modo. Se da questo sistema se ne vanno, quindi levo il setto di abbraticità, qua tenevo che cosa? 100 gradi, qua ne tengo zero. E ovviamente cosa c'ho nel momento in cui levo il setto di abbratico? C'ho un rimescolamento di energia, quindi che cosa succede? Che questo sottosistema c'è di energia all'altro sottosistema. Delta U del sistema isolato, come sarà uguale ragazzi? Nullo, quindi delta U con A sarà uguale a delta con B. Quindi se c'ho 10 J che se ne vanno da qua, qua quanti ne avrò? Meno 10. Quindi attenzione a perdere il segno, perché se vi dite 10 10, fate 20 e non vi trovate più nel bilancio. Va bene? Quindi i segni non è che sono un opzionale nei bilanci. Dovete mettere positivo o negativo. Può aumentare, l'energia può diminuire. Chiaro? Ora, un altro aspetto con cui dobbiamo prendere confidenza. Allora, innanzitutto quindi questa energia, se la volessimo ridefinire in modo generale, l'avete già definita, come la potremmo chiamare? Come capacità di un sistema di compiere lavoro. Vi ricordate? Quindi posso accumularla questa quantità, posso, diciamo, in termini positivi posso anche cederla e ovviamente queste trasformazioni che, diciamo, io vi ho fatto vedere in un caso più semplice, nel caso di un sistema isolato, noi li guarderemo anche in sistemi più complessi che sono i sistemi chiusi e i sistemi aperti. Prima di dire questo, però, cerchiamo di capire quali sono le forme di energia che io normalmente incontro. Allora, quali sono, diciamo, perché purtroppo abbiamo visto questa, diciamo, questa energia che voi avete qui visto in questi modi diversi, noi qualche volta le classifichiamo anche in altri modi e che probabilmente sono aggiunte nelle vostre orecchie fino ad adesso, no? Quando io parlo, diciamo, di fondi di energia fossili, è un'altra classificazione, non è, diciamo, in realtà le fondi fossili già so che tipo di energia è, che quale energia mi dà luogo, no? Che cosa posso utilizzare delle fonti fossili, perché sono importanti. Innanzitutto, quali sono le fonti fossili? Allora, vediamo un attimo. petrolio. Allora, sono petrolio, carbone e gas natural. Quindi, di fatto, sono queste tre grossi, diciamo, bacili che da qui posso attingere, diciamo, ovviamente sappiamo che queste le chiamo anche fonti esauribili, a differenza delle fonti cosiddette rinnovabili che sono invece inesauribili. In realtà io potrei mettere accanto, diciamo, alle, oltre che alle fonti fossili come fonti esauribili anche nucleari, va bene? Almeno quello nucleare che viene dalla fissione uraneo. Allora, vediamo, diciamo, queste fonti che noi utilizziamo, diciamo, quotidianamente. Secondo voi, qual è la quantità di energia che voi consumate in un anno? Consumate in modo un po' improprio, diciamo che trasformate in un anno, perché l'energia, abbiamo detto, che non si, diciamo, distrugge, abbiamo detto, si trasforma. Quindi vedremo, anche se poi nel lessico comune parlo di produzione di energia, di consumo di energia, in realtà, attenzione, è un modo improprio di parlare, perché ogni volta che per fare l'energia io la trasformo da una, diciamo, forma ad un'altra forma. Allora, la forma chimica che mi viene dal gas naturale, va bene, questa energia chimica che sta dentro la molecola di gas naturale, c'è H4, in cosa la trasforma? Attraverso una combustione in? Calore. Energia termica, quindi in calore, giusto? E il calore fa che cosa ne faccio? Lo ritrasforma in cosa? Energia meccanica, va bene? Energia meccanica in cosa la posso ancora trasformare? E così via. Poi la ritrasforma a caso di nuovo in energia meccanica che si ritrasforma in energia termica. Allora, tutte queste trasformazioni noi le dovremo studiare nel corso di termodinamica. Dobbiamo capire che in realtà ogni volta che ando a fare un bilancio in energia, entra cento, esce cento. Va bene? Non entra cento, è entrato un kJ, le ho consumati. Ma chi hai consumato? Le hai trasformato. Va bene? Quindi primo grosso equivoco di fondo terminologico che vi porta su una falsa strada. Dici, vabbè, le ho consumate, queste energie. No, le ho trasformate. Le ho trasformate da una forma pregiata a una forma... Ragazzi, silenzio. Ditemi, qual è il dubbio? Ragazzi, se ci sono dubbi, ditelo. Le ho trasformate da una forma pregiata di energia ad una forma proprio pregiata. Quindi dobbiamo capire quali sono queste forme. Va bene? Cioè, se io ho questa energia di potenziale della gessetto che ho qua sopra, va bene? Mgz, ho un'energia potenziale? Sì. Va bene? Se ho un chilogrammo qua sopra a un metro da terra, c'ho una certa energia. Lascio questo oggetto. Nel momento in cui l'ho lasciato e sta a metà altezza, questa energia dove è finita? Si è trasformata dall'energia potenziale all'energia cinetica. Questo l'avete già fatto nei corsi di meccanica. Quando arriva per terra, l'energia potenziale non ci sta più. Si è fermata e c'è setto. Sì. In cosa è trasformata? In energia termica. Va bene? Quindi, caduta per terra, oppure energia di formazione. Si è ammancato. Va bene? Quindi ho trasformato quell'energia in un'altra forma di energia. Attenzione, perché questa è una cosa su cui nei nostri bilanci ci terremo sempre conto. Quindi se non vi trovate con le varie energie, vuol dire che qualche cosa non funziona. Secondo aspetto, quindi abbiamo detto quantità, diciamo, di fonti fossili. Allora, giusto per cominciare a prendere confidenza. Poi lo vedrete anche in altri corsi. Corsi avanzati, quando andrete a fare fonti rinnovabili in piatti termotecnici, studierete come lavorare le rinnovabili. Va bene? Adesso cosa sapete fare? Sapete soltanto che il metano lo potete bruciare, sapete qual è il potere calorifico, quindi prendete quantità di metano, va bene, c'è un chilogrammo di metano, un metro cubo di metano è ancora meglio, perché tenete il petrolifico normalmente solo chilo joule a normal metri cubi, moltiplicate la massa del metano che stiamo utilizzando, per il potere calorifico e avete, diciamo, la quantità di energia che potete teoricamente utilizzare, giusto? Quindi il potere calorifico, l'avete già fatto chi? Potere calorifico, giusto? Perfetto. Questa quantità, pari pari, entra dalla caldaia questa energia chimica, esce l'energia termica, avete riscaldato l'acqua, quindi ve lo dovete ritrovare come? Come m punto, come m c, un caldo specifico per delta t, giusto? se state facendo una trasformazione. Poi li rifaremo questi bilanci, li scriveremo per bene, adesso ve li sto dicendo così in modo molto veloce, ma nella realtà faremo esattamente il bilancio di questo tipo. Entra una quantità di energia, ne esce un'altra, va bene? Poiché l'energia si conserva, evidentemente dovrò, diciamo, andare a considerare queste trasformazioni. Oltre a queste quantità, che ahimè, sono estremamente, diciamo, elevate in questo momento in termini di trasformazioni o diremo come glume nella stanza in termini di consumi, perché noi purtroppo di fondi fossili ne consumiamo quantità infinite, infinite proprio no, ma secondo voi, facciamo un numero, in un anno, secondo voi in Italia, quanta energia si consume? allora, per farvi capire che, diciamo, diventa abbastanza difficile, diciamo, misurarle in joule, ma potremmo anche farlo, ma quando tu parli, diciamo, di terra joule, diciamo, le cose finiscono un poco per... allora facciamo, utilizziamo come unità di, diciamo, di misura il TEP, sapete che cos'è il TEP? Allora, da adesso in poi, poiché siete degli ingegneri elettrici e meccanici, questa quantità vi dovrà essere familiare, perché se vi diceva, vabbè, un TEP, diceva, non so che cos'è il TEP, fate una figuraccia, tonnellato equivalente di petrolio, va bene? Queste quantità, diciamo, una tonnellata equivalente di petrolio è un'enormità, ragazzi, è una piscinetta, va bene? E sapete ognuno di noi quanto, quante piscinette consume in un anno? Quanti tonnellate equivalente di petrolio? Una tonnellata equivalente di petrolio, capite quanto è? Vabbè? Quante ne consumate, secondo voi, ogni anno? Ne consumate ben tre, circa tre, noi italiani, eh, perché, in realtà, diciamo, nel mondo c'è chi ne consuma un po' di più e chi ne consuma un po' di meno, quindi vuol dire che, poiché, diciamo, fate i calcoli opportuni, questo mediando, cioè già il bambino che sta in fasce, già lui, ogni anno, si consuma la sua, la sua, i suoi tre, tre tonnellate di petrolio, perché? Perché io me lo faccio, non è che me lo porto soltanto col carrozzino, me lo porto con la macchina, quindi, uso la macchina, non solo, poi, devo riscaldare il latte, diciamo, perché, diciamo, si deve prendere il latte caldo, lo devo tenere in casa e, diciamo, che si deve stare riscaldato, poi, sa la luce perché sennò piange, poi, la dolce, facciamo l'altro, nel bagnetto e pensate che il bagno di bagno, cioè già quando stanno in fasce, ognuno di noi consuma questa sua piccola piscina di petrolio. Allora, perché vi dico questo? perché, diciamo, io sono cresciuto con le fonti fossili, voi invece probabilmente viverete un'era di transizione, cioè voi partirete con le fonti fossili quando uscite dal corso di laurea e arriverete a fine carriera che lavorerete solo con le rinnovate, quindi siete costretti a parlare del, diciamo, del petrolio, tra poco chiamo lui a rispondere la magna, poi si piace una volta, sia, diciamo, quindi, con, diciamo, sia con le fonti fossili sia con le rinnovabili, va bene? Allora, quindi, se voi perdete, quanti milioni siamo? no? Quanti milioni siamo in Italia? 57. E quindi, facciamo 60. Quindi noi mettiamo, in Italia, facciamo circa 180 tonnellate, cioè 180 milioni di tonnellate, quindi miliardi, no milioni, milioni di tonnellate, quindi un'enormità, va bene? Non so se direte quanto, ogni anno ci consumiamo, e se andiamo nel mondo dove, per fortuna, ci sono, per fortuna nostra, ma per sfortuna loro, ci sono paesi non sviluppati come i nostri e quindi consumano molto di milioni di loro. A fronte, diciamo, negli Stati Uniti, per esempio, diciamo, in alcuni momenti, diciamo, di, in cui non c'era questa attenzione all'energia, diciamo, si andava a consumare anche circa 8, 9, 10 tonnellate di petrolio a persona, va bene? Quindi, di fatto, è chiaro che da un lato avete, come Trilussa, no? C'è da un lato che mangia dei polli e che dall'altro lato che non ne mangia nessuno. E quindi avete, avete che nel mondo, mediamente, ognuno di noi, diciamo, fa circa 2 tonnellate equivalenti di petrolio, moltiplicate per una porzione mondiale, quanti ne siamo? 6 miliardi e mezzo, già mentre l'ho detto che qualcuno fa che centinaia di miliardi, e quindi moltiplicate, fate 6 miliardi, sono per circa 2, 2 qualcosa, e sono circa 150, 120, 150 miliardi di tempo ogni anno che noi bruciamo. Pensate che le riserve, diciamo, di petrolio, sapete quante sono? 450 miliardi. 50 miliardi. Quindi nella realtà, attenzione, attenzione, no, ho sbagliato perché sono 6, sono 15 miliardi. 6 miliardi per 2 sono circa 12, 15 miliardi di tonnellate di petrolio, però abbiamo con riserve che sono le ordinate centinaia. Quindi abbiamo riserve per circa 30-40 anni di petrolio, pochissimo, abbiamo riserve per circa 100-150 anni di carbone, abbiamo riserve per circa 60-70, adesso un po' di più perché c'è lo Shell gas, non so se ne avete sentito a parlare, l'ho detto anche nell'ultima lezione, nell'ultima lezione, questo gas che viene l'idroccio, quindi che ha un po' aumentato questi numeri, ma sono numeri piccoli. Se voi mettete in una scatola quanto carbone c'ho, quanto, diciamo, c'ho di petrolio, quanto c'ho di gas naturale, questa è l'energia che ogni anno ci dà il Sole e questa è la quantità, diciamo, delle riserve che abbiamo a livello. Quindi se avessimo delle scatole, vedete quanto sono piccole? In realtà, qual è il futuro? Sono rinnovabili. Purtroppo il costo delle rinnovabili è estremamente elevato, cioè noi siamo costretti, come vi ho detto nelle prime lezioni, a fare degli incentivi per le rinnovabili perché? Perché costano di più, cioè il fotovoltaico, il kilowattora da kilowattora costa di più rispetto a kilowattora da fonti fossili oggi, ma la parità comincia ad avvicinarsi, quindi voi sarete come ingegneri energetici, come ingegneri elettrici, come ingegneri meccanici, sarete sempre di più, diciamo, degli ingegneri che saranno costretti a guardare molto meno il motore a combustione interna, che tanto vi piace, e molto di più, diciamo, l'auto ibrida o addirittura l'auto solare. Quindi già oggi la comunità europea dice che, signori, dovete fare gli edifici nzeb, che vuol dire nzeb? Ne avete mai sentito parlare? Già questo è già nelle PB2, già è nella normativa direttiva europea, che cosa vi dice? Mi dice dovete fare gli edifici che non consumano, cioè che non consumano fonti fossili, cioè net zero energy building, cioè vuol dire edifici che hanno consumo sostanzialmente pari a quello che producono, in termini rinnovabili. Quindi mettete, diciamo, il pannello fotovoltaico, prendete, diciamo, recuperate l'area calda che esce, la recuperate per riscaldare l'area che entra, perché sennò ovviamente buttate l'energia nell'ambiente e così via. Cioè dovete fare tutta una serie, diciamo, di misure per non buttare quasi nulla. E quello che dovete buttare, perché dovete necessariamente consumare, lo dovete fare in termini rinnovabili. Quindi ci stiamo avvicinando, voi vi avvicinate, a una modalità di consumi, tra virgolette, energetici completamente diversi da quella della mia generazione. Ragazzi, se parlate pure voi, mentre vogliamo parlare io, lo so che è largamente interessante, quindi cortocircuitata delle informazioni che avete, però, diciamo, il rischio è che poi non si capisca più. Però, se volete intervenire su questo, dite, parlate, mi fermo io e voi fate delle domande, delle osservazioni, perché ce la possono interessare tutte. Dite. Non volete parlare soltanto altro che tu, volete parlare. Osservazioni su questa cosa. Secondo voi, voi fra 40 anni, diciamo, troverete ancora la macchina che va a petrolio, che va a benzina. Magari va con le biomasse. Allora, vediamo quali sono le rinnovabili. Allora, quali sono le rinnovabili che conoscevi? Allora, abbiamo detto solare. Eolico, eolico, idro, poi dentro le biomasse. Perché le biomasse si che brucio e il carbone no? perché il biomasse diciamo il sole ne riproduce il continuo giusto ogni anno li faccio il raccolto quindi riprendendo le biomasse non solo c'è un problema di emissioni CO2 che poi diciamo rivedremo quindi ancora oltre che diciamo biomasse bravissimo geotermina bravissimo tra l'altro adesso il geotermino così come l'idroelettrico che sono il mini micro e l'idroelettrico diciamo di grossi salti anche qui si distingue il geotermico ovviamente propriamente detto e il geotermico a basso di tappia quello che serve a riscaldare le case e mettere qualche sfrutto con pompe di calore che prendono energia diciamo superficialmente non in profondità ancora? sono sempre allora ovviamente voi avete giustamente messo quasi in ordine di priorità queste cose quasi ma più o meno ancora cosa posso dire l'energia delle maree ancora pure potrei diciamo andare a utilizzare li trovate? l'energia del mare è un non so se l'avete mai vista ci sono dei galleggianti che praticamente si uomano e ovviamente posso sfruttare in questo modo e poi andare diciamo ovviamente a diciamo più o meno a finire perché poi alla fine queste sono quelle che non si esauriscono quindi tutte le rinnovabili hanno una caratteristica non si esauriscono il nucleare perché non si mette il nucleare gli denti perché il nucleare da fissione e lì c'è l'uranio che è un vostro combustibile sostanzialmente va bene impropriamente detto combustibile però vuol dire è il nucleare che diciamo da cui ricavate l'energia che trasformate ma quello ovviamente anche quello in natura è finito diverso invece è la fusione nucleare in cui se volete fondere il logico e la voglia di fare è sostanzialmente la fornace del sole che funziona così no? le stelle funzionano in questo modo è energia nucleare che poi arriva a noi come energia termica quindi come radiazione solare e poi noi la possiamo ascoltare allora attenzione perché qualcuno già impropriamente diceva potremmo utilizzare l'idrogeno l'idrogeno non è una fonte queste sono tutte fonti energetiche l'idrogeno è un vettore energetico non è una fonte lo devo produrre dove sta l'idrogeno in natura? c'è quindi lo devo produrre e poi lo posso utilizzare ora tutto questo ovviamente lo farete nei corsi diciamo di approfondimento che troverete dopo la fisica elettrica per ora iniziamo invece a lavorare su su quelle che sono invece diciamo i concetti di base quindi ritorniamo a quello che abbiamo detto prima quindi adesso spero che almeno dal punto di vista dell'alfabetizzazione sapete cos'è un TEP sapete cos'è un rinnovabile una fonte fossile sono tutte fonti che ne utilizzeremo normalmente noi invece cosa faremo? vabbè c'è un serbatoio che mi dà qualunque cosa al mondo cioè noi come termotecnici semplifichiamo in breve a battuta cioè pensiamo che l'energia ci venga da un serbatoio che è infinito e che quindi possiamo prendere in modo inesorribile purtroppo le energie chimiche che noi normalmente utilizziamo non sono inesorribili quindi attenzione a questa semplificazione che faremo a partire dalle prossime lezioni nel corso del modinario perché voi sapete non essere però per semplificare la vostra trattazione noi considereremo dei serbatoio da cui vi posso attingere in modo che sono sostanzialmente sono rinnovabili posso prendere prendere un pozzo senza fine a me allora attenzione perché invece purtroppo non lo è quindi attenzione all'uso dell'energia perché l'energia va a causa per volontarsi ora quello che andremo a fare a valle quindi nel sistema isolato noi andremo a prendere dei sistemi che non sono isolati o comunque abbiamo visto che quando quando abbiamo trattato il nostro sistema e l'ambiente esterno abbiamo visto che anche se il nostro sistema è chiuso per esempio che interagisce con l'ambiente esterno quindi io posso prendere un sistema di cilindro sistema chiuso l'ho fatto interagire con il mondo esterno l'ho riscaldato per esempio quindi ho dato 10 joule li ho presi dove? all'ambiente e li ho trasferiti al mio sistema allora attenzione non me ne sono accorto ma nella realtà questa coppia che è sistema più ambiente abbiamo detto che è confinato alla mia massa di controllo o al mio volume di controllo ben definito una porzione dello spazio l'ambiente è tutto quello che resta esternamente a questo sistema giusto? quindi se io prendo il sistema più l'ambiente e li metto dentro un altro macrosistema questo sistema che contiene tutte e due come sarà? isolato e quindi io potrò considerare questo sistema composto isolato fatto due oggetti che interagiscono tra di loro con un sistema isolato ora devo soltanto andare a capire quali sono come posso come possono interagire dal punto di vista energetico il sistema e l'ambiente va bene? allora guardiamo a quella equazione allora questa equazione che vale diciamo che è sempre valida perché è l'equazione di fianco cosa vi dice? la sommatoria dell'energia in ingresso più dovrei scrivere l'energia generata uguale a la sommatoria dell'energia in uscita più l'energia distrutta più la variazione di energia nel mio sistema ora abbiamo detto che l'energia è rigorosamente una grandezza conservativa quindi è come la massa quindi questo e questo se ne vanno quindi ho la quantità di energia che entra all'interno del mio sistema è uguale alla quantità di energia che se ne esce dal mio sistema più la variazione di energia del nostro sistema attenzione perché la prima possibile confusione è tra queste quantità ingresso e uscita e questa quantità questa quantità è una caratteristica del mio sistema è la E del mio sistema va bene quindi questa rappresenta una proprietà del mio sistema una coordinata del mio sistema queste non sono coordinate del mio sistema sono le quantità di ingresso e le quantità di uscita non sono proprio delle proprietà termodinamiche le proprietà termodinamiche le proprietà termodinamiche di cui stiamo parlando sono queste va bene quelle che stanno quelle che appartengono al mio sistema va bene quindi attenzione perché la prima errore che potreste fare diciamo per esempio di energie si tratta no queste sono energie in transito queste sono le la variazione dell'energia del mio sistema quindi è la proprietà termodinamica di cui stiamo parlando va bene questi sono flussi per fare un esempio faccio un esempio che diciamo Joule per primo a sicuramente lo ricorderete perché è nei testi di fisica elementare che cosa fece diciamo Joule prese un sistema con una bella cordina con un grave che stava qua così e disse va bene io prendo questa euretica prendo il mio grave attaccato a una poleggina che fa girare una piccola elica all'interno di questo sistema prendo questa corda faccio cadere questo grave la metto viene qua e vado a vedere quanto è variata l'energia di questo sistema cioè sto dando energia al mio sistema e andò a vedere quanto era questa variazione di energia del sistema esterno dell'ambiente che aveva fornito a questo sistema qua erano uguali va bene quindi quantità in transito quantità in transito questa qua che sta diciamo soldando il mio sistema variazione dell'energia qui dentro quindi io posso fare scrivere un bilancio se vado a continuare a scrivere questa relazione andando a dividere le quantità in transito in due quantità diverse quali sono secondo voi le due modalità di trasferimento di energia che è un sistema semplice che il VT può avere con il mondo esterno calore l'abbiamo visto l'altra volta calore 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 quindi io avrò la sommatoria delle Q in ingresso più la sommatoria delle L in ingresso uguale a sommatoria delle Q in uscita più la sommatoria dell'L in uscita più ancora delta E attenzione se noi manteniamo fermo il nostro sistema quindi non varia la sua energia cinetica lo manteniamo alla stessa quota quindi non c'ho nessuna variazione di energia cinetica potenziale e non faccio avvenire reazioni chimiche nucleari come normalmente faccio non faccio all'interno dei miei processi delle mie trasformazioni qua potrò scrivere anche uguale a delta U se no dovrò scrivere uguale a delta E più delta E quindi delta U delta E in funzione del fatto se faccio variare o non variare le altre forme di energia quindi potrò scrivere ancora attenzione ancora un'altra cosa come la prendo tutte le quantità di calore in ingresso positive? se sono in ingresso queste sono intrinsecamente positive quindi posso anche mettere un valore assoluto diciamo qua giusto? cioè tutto quello che entra lo metto positivo a sinistra tutto quello che esce lo metto positivo in uscita a destra cioè 10 euro da qua e 10 euro dall'altro lato dell'equazione di bilancio li trovate? quindi sono tutte quantità positive che sto considerando nel mio bilancio per come le ho definite quindi posso metterci qui con l'assoluto faccio una fia quindi il delta U è uguale alla posso scrivere come equazione di bilancio che la sommatoria del calore in ingresso più la sommatoria del lavoro in ingresso sarà uguale alla sommatoria del calore in uscita più la sommatoria del lavoro in uscita più ancora il delta U dove ricordiamoci il delta U io non scriverò più nulla a partire da questo momento non scriverò delta U del Sist perché quando non scrivo niente vuol dire che è quella del mio sistema quindi l'ultima volta che scrivo nell'equazione di bilancio delta U Sist quando scriverò dall'adesso in poi delta U vuol dire che è quella del sistema quindi questa è una modalità di scrittura del primo principio per sistemi chiusi cioè il mio sistema di strutture cilindro che noi abbiamo già visto in cui normalmente questa quantità che posso fornire in termini di calore e questa l'ho chiamata la quantità che posso invece fornire in termini di lavoro andiamola a vedere meglio vediamo qual è sul sistema chiuso la modalità di flussi di energia in modo lavoro va bene? allora secondo voi questo lavoro che io posso compiere sul sistema oppure che il sistema può compiere sull'ambiente quindi può essere l'ingresso o può essere un'uscita con andando a comprimere o a decomprimere ovviamente il mio sistema a quanto sarà uguale? il lavoro voi come l'avete diciamo definito? uguale forza per spostamento bene allora andiamo a vedere quant'è la forza e quant'è lo spostamento allora la forza allora su quello mi ho messo un pesetto la mia forza che agisce sul mio pistone e ciò che ovviamente da questo punto qua il mio pistone se sto compiendo il lavoro sul sistema si sposta fino a questo punto allora quando sto spostando questo mio sistema attenzione perché la forza diciamo se la trasformazione avviene lentamente la forza cosa sarà uguale? vinto un pesetto poi un altro pesetto poi un altro pesetto e aspetto sempre costanti di equilibrio uno successivo all'altro la forza in condizioni di equilibrio a cosa sarà uguale? in condizioni di equilibrio cosa vuol dire? forza uguale? in condizioni di equilibrio perché questo non collasse e se ne va qua su? cioè l'equilibrio delle forze qual è la forza che contrasta il peso di questo oggetto che sta qua su? come? la pressione la pressione la pressione non è una forza la pressione che il fluido esercita qua sotto per l'area bravissimo gli dà la forza diciamo che contrasta la forza pesca giusto? perché sennò questo si muoverede se la pressione qua dentro fosse più piccola collasserebbe più in giù si trovate? quindi questo è uguale a P per A per lo spostamento chiamiamolo delta S più comuro più questo spostamento delta S piccolino elementare che ho fatto va bene? perché se non fosse tanto piccolo abbiamo detto che in condizioni di quasi equilibrio giusto? questo questo pesetto che ci ho messo deve essere molto molto piccolo in modo da poter considerare le pressioni più o meno costanti quindi attenzione che in questa trasformazione io ho P per A per delta S uguale a P per delta B bene? perché A per delta S è la variazione del volume del mio sistema quindi questa cosa è uguale sempre se stiamo considerando diciamo la trasformazione quasi statica sempre se lo sto considerando molto questo lavoro molto molto piccolo è un lavoro quasi elementare che sto facendo ma in una condizione estremamente diciamo ridotta in termini di spazio quindi posso ancora scrivere questa relazione come quindi il lavoro di delta B la posso anche vedere come M P per delta V piccolo lo sappiamo bene è il volume specifico del mio sistema attenzione questa relazione vedremo che è vero questo lavoro si chiama lavoro di variazione di volume non a caso no? perché ho fatto variare il volume quindi il lavoro che io faccio sul sistema di pistone di cilindro è nel fatto che la di variazione di volume questo lavoro è vero che è uguale a questa relazione soltanto quando la trasformazione è reversibile perché altrimenti devo fare qualche altra cosa va bene? quindi che cosa posso vedere? quindi l'ho fatta quasi staticamente in modo che facendo succedere uno strato di equilibrio all'altro mettendo un pesetto dopo l'altro ma c'è ancora un'altra cosa che sto considerando che devo considerare cosa? quando è che questa forza è uguale semplicemente alla forza che mette si muove alla forza diciamo del cioè io spingo e la forza che metto per spingere è esattamente quella è la forza diciamo di contrasto se la massa del pistone è nulla no fosse nulla se ne andrebbe fuso così quando è che questa forza è uguale alla forza che sta tutta? secondo voi qua non c'è nessun fenomeno diciamo sulle pareglie attriti allora come vedete quando io non ho nessun attrito quindi che cosa vuol dire questo? quando io posso spingere qua sopra e questa trasformazione questo ottobre può andare giù poi ritare sopra poi ritare sopra ci spingo sopra e questo fa l'altalena lo fai in modo infinito è irreversibile vuol dire che va su e va giù giusto senza mai fermarsi e allora come vuol dire? la trasformazione la posso definire irreversibile ma solo in quel caso ho questa approssimazione che ne abbiamo fatto negli altri casi no devo andare a considerare anche evidentemente le forze di attrito che ci sono lateralmente eventuali dissipazioni che possono esserci all'interno e così via per ora prima di considerare questo discorso dell'irriversibilità dei fenomeni che noi ancora non abbiamo facciamo prima o per tutto possiamo riconsiderare questo lavoro come più o più questo uguale a ipervento a me è molto semplice da calcolare in generale sappiamo che non è così quindi in questo lavoro purtroppo io devo dare normalmente sempre un po' di più per poter far muovere e per comprimere questo se lo voglio dare oppure quando lo prendo prendo il lavoro dall'ambiente quindi espando quindi è il sistema che compie lavoro sull'ambiente quindi considero che si sta espandendo questo sistema che cosa avrò? avrò che il lavoro diciamo di uscita è sempre più piccolo rispetto a quello che potrei avere in modo irriversibile perché? perché una parte di energia dove rimane? in modo calore viene trasformata in calore in energia termica dovuto agli attriti laterali dovuti ad altri fenomeni che poi impareremo a vedere quindi attenzione questo lavoro inizio a scrivere questa formula ma già vi dico questo è il lavoro reversibile di compressione e di espansione nella realtà vedremo che il lavoro è leggermente diverso quando andremo a fare le trasformazioni reali non quelle ideali analogamente quindi allora queste diciamo quindi queste L con I e queste L con E devo in un sistema chiuso saranno ovviamente in uscita e in ingresso potranno essere lavori di variazione di volume non ho altri modi di compiere lavori in modo irriversibile ragazzi questa cosa qua non è un lavoro che irriversibilmente lo scambio vi trovate? questo com'è? questo diciamo posso dire senti per cortesia adesso riavvolgiti e ritorna dietro per cui questo è un lavoro irreversibile quindi attenzione questo lavoro d'elica che sto dando qua su per un sistema chiuso che è solo irreversibile il lavoro d'elica potrò trasferire il lavoro d'elica in modo irreversibile non su sistemi chiusi ma solo su sistemi aperti come vedremo più avanti quando andremo a fare il bilancio per i sistemi aperti allora detto questo concludo perché abbiamo accumulato un bel po' di nozioni volevo soltanto dire qualche cosa su una che se volete è una banalità ma su cui invece voi normalmente sbagliate quindi attenzione questo è un errore molto comune quando andiamo a fare questo bilancio sui sistemi chiusi quindi delta U uguale a che cosa? normalmente diciamo si accorpano questi termini cioè si accorpano tutte le quantità in ingresso alle quantità in uscita mettendo questo da quest'altro lato del mio bilancio cioè dico chiamo Q tutte le quantità in ingresso meno la sommatoria di tutte le quantità in uscita lo posso fare? certo come lo chiamo questo calore? questo è il calore in ingresso questo è il calore in uscito questo è il calore netto si dice scambiato quindi ovviamente che qual è? ovviamente mentre questi qua erano intrinsecamente positivi quindi tant'è per io che ho detto ragazzi se farei idea che sono positivi io ho messo il valore assoluto ma non ce l'ha bisogno e come l'abbiamo definito sono positivi a destra e positivi a sinistra quindi non lo mettevo non lo mettevo segno diciamo diciamo di valore assoluto e per come abbiamo definito il calore in ingresso sono definiti a qualità positiva così come il calore è uscito qui no perché se è la sommatoria di ciò che entra meno quello che esce io posso può entrare 100 e può uscire 150 e quindi il calore netto in questo caso quanto è uguale? se sono entrati 100 joule e sono usciti 150 joule sono meno 50 joule quindi attenzione primo aspetto importante quando utilizzo la convenzione del segno si chiama questa io normalmente posso avere un calore netto positivo o negativo in transito come sommatorio di tutto quello che entra meno sommatorio di tutto quello che esce va bene? ed è una formula in questo modo quindi scriverò qua dentro in questa relazione uguale a Q senza mettere più niente non metto sommatorio di alcune ingresso e alcune uscita metto direttamente Q nell'equazione bilaggia va bene? prima approssimazione che voi avete fatto quando avete scritto al liceo scientifico al liceo classico o al liceo tecnico avete utilizzato questa formulazione non questa bilaggia va bene? e quindi normalmente avete considerato una Q con la convenzione del segno positiva in ingresso negativa in uscita analogamente avete fatto un'altra ipotesi che L non l'avete presa come L con I ed L con U avete messo L uguale sommatoria di L in uscita meno la sommatoria dell'L in ingresso ovviamente sempre valore assoluto avete considerato positivo il lavoro uscente perché si fa questa diversa convenzione perché le prime macchine tecniche che facevano abbiamo visto quella di Watt quella di Newton che cosa facevano? mettevano che cosa? calore positivo usciva meno L quindi consideriamo il calore il lavoro positivo in uscita e il calore invece positivo in ingresso e quindi questa convenzione storica è nata questa prima formulazione del primo principio per sistemi chiusi che più generalmente si scrive così delta E uguale a Q meno L poi sottoforma è delta U uguale a Q meno L nel caso in cui ovviamente non ho variazione di energia cinetica potenziale eccetera quindi posso scrivere che la variazione di energia di un sistema chiuso è uguale a Q calore netto entrante sostanzialmente perché quell'entrante potete pure non metterlo ma se lo aggiungete calore netto entrante vi ricorda che la convenzione del segno dice che è positivo entrante così come potete dire meno il lavoro netto uscente per ricordarvi che la convenzione del segno in questo caso vi dice che è positivo il lavoro uscente però già la posizione netta vuol dire che è tutto quello che esce meno tutto quello che dentro in questo caso tutto quello che dentro è quello che esce quindi il primo principio lo potete scrivere in questa formulazione come equazione di bilancio o in questa formulazione con la convenzione del segno decidete voi come volete scrivere l'importante è che non sbagliate i segni perché se no se mettete qua i segni sbagliati l'esercizio non viene qua non avete bisogno di utilizzare i segni sono tutte quantità positive qui invece le Q possono essere positive o negative le L possono essere positive o negative e guardate che se L è negativa il primo errore che fate fate meno L e vi dimenticate che meno per meno fa più questo è un errore classico allora ricordatevi ragazzi potete fare qualunque errore all'esame ma se sbagliate i bilanci di prima e seconda legge potete alzarvi anche da solo è tollerato qualunque errore l'unica cosa che non è tollerata è che 10 esce e voi non sapete fare 10 esce perché perché molto spesso fate gli errori che sono banali che sono errori del segno non considerate il tempo non considerate il fatto che è un sistema composto cioè non considerate il vostro volume di controllo il vostro sistema di controllo questi sono gli errori banalissimi ma che fanno l'ingegnere va bene quindi attenzione fatene tanti quindi non sbagliate